Grazie Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi senatori. La legge di delegazione europea 2019 cade in un momento molto delicato per la nostra politica internazionale e per i rapporti che intratteniamo con l'Unione Europea. Infatti l'Europa ha recentemente perso l'ultima occasione per cambiare rotta e superare il clima di diffidenza e rancore che si è creato tra i popoli del vecchio continente a causa delle cosiddette politiche di austerity. Purtroppo, come abbiamo visto, le elezioni europee non hanno insegnato nulla a quanti siedono nei palazzi di Bruxelles. Il fatto stesso che la nuova Presidente della Commissione europea sia stata eletta per una manciata di voti non ha fatto riflettere i fautori di questa Europa delle banche e dei burocrati un'Europa che per sopravvivere deve cercare al suo interno le alleanze più innaturali alle quali si è sottomessa anche un partito popolare europeo ormai privo di leadership e di prospettive. Stiamo assistendo ad un vero e proprio accanimento delle istituzioni comunitarie nei confronti dell'Italia in base al principio secondo cui l'obiettivo primario dell'azione politica delle istituzioni europee non è più, se mai lo è stato, fare i conti con le problematiche sociali, i cambiamenti climatici o le sfide poste alla sicurezza continentale, ma attaccare costantemente la Lega. Anche nella legge di delegazione europea che stiamo discutendo è visibile, in maniera neanche troppo celata, un impianto normativo contrario a ciò di cui veramente l'Italia e gli altri Paesi mediterranei hanno bisogno. Se escludiamo le norme metodologiche di carattere generale riscontriamo facilmente un orientamento normativo sordo ai bisogni e alle richieste italiane, tanto da far venire il sospetto che qualcuno in Europa lavori facendo proprio il principio del tanto peggio, tanto meglio. Certo, ben venga l'articolo 1, che sancisce il principio della massima semplificazione dei provvedimenti in serie di attuazione delle direttive europee e prevede che venga assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri. Ma viene da chiedersi quante aziende hanno visto semplificata per davvero la conduzione delle loro attività recependo una direttiva europea. Io direi poche, già che spesso la conseguenza degli interventi dell'Europa è stata addirittura la chiusura delle realtà produttive e non la loro agevolazione. In tema di parità di trattamento, poi, ci sarebbe bisogno che questa fosse garantita effettivamente in tutti i settori normativi, soprattutto nel mercato del lavoro, dove la corsa alla riduzione dei costi produttivi passa per lo sfruttamento del dumping salariale esistente. Bisognerebbe intervenire con forza, semplicemente applicando le regole sui contratti di lavoro vigenti nel Paese in cui la prestazione viene svolta. Purtroppo, però, queste prospettive non sono così facili da perseguire come sembrano e difficilmente una Commissione europea così fragile saprà risolvere problemi strutturali come quelli a cui abbiamo accennato, anche perché molto spesso manca la volontà di risolverli per davvero. In compenso troviamo in questa legge europea una mostruosità giuridica, che tra l'altro ho appena sentito la collega Ginetti, di cui si vanta, che non abbiamo potuto disinnescare a causa degli accordi presi in passato. Quando il Ministro della Giustizia era Orlando, l'intero Paese erano guidati dal PD. Allora abbiamo offerto il fianco all'ennesima ingerenza europea attraverso la cosiddetta cooperazione rafforzata in materia giudiziaria, aprendo la strada all'istituzione del procuratore europeo, cioè il primo passo verso il commissariamento del potere giudiziario da parte dell'Europa. Quel che è certo è che con noi non avrà un centimetro, anzi neanche un millimetro in più di competenze rispetto a quello che avete stabilito voi. Infatti l'intenzione dell'allora Ministro Orlando non era di fermarsi a questo livello, ma di ampliare ulteriormente le competenze, come ha detto la collega Ginetti del procuratore, criticando quei Paesi in disaccordo con questo disegno perché, secondo l'ex Ministro, in loro aveva prevalso una preoccupazione miupe. Ebbene, caro concittadino, visto che Orlando è della mia stessa città, quei Paesi avevano come unico obiettivo l'interesse nazionale, un concetto, a voi direi, del PD, alquanto sconosciuto come abbiamo potuto verificare. Allo stesso modo fanno riflettere gli articoli 10 e 11, nei quali si fa menzione alle fitopatie, un problema annoso che ha colpito, nel caso specifico della Xylella, la nostra produzione di olio d'oliva, devastando letteralmente interi paesaggi della Puglia e dando un duro colpo al nostro comparto produttivo. Ebbene, possiamo apprezzare che l'Europa cerchi di offrire risposte, direi in notevole ritardo, ad un problema che abbiamo dovuto affrontare interamente da soli. E qui mi permetta, Presidente, di ringraziare l'operato del Ministro Centinaio, che ha saputo offrire in autonomia risposte non scontate ad una situazione veramente disperata. E mi si permetta anche di dire che, mentre sulla Xylella l'Europa è arrivata, quando oramai in Puglia il deserto aveva preso il posto degli oliveti, è stata invece molto solerta e tempestiva quando si è trattato di agevolare le importazioni dell'olio tunisino, così da immettere nel mercato interno prodotti concorrenti ai nostri, provenienti da un sistema economico che ha costi di produzione molto più bassi. Viene da chiedersi perché non vengono fatte operazioni simili con operazioni extra-UE capaci di danneggiare le economie francesi e tedesche. E la risposta è semplice, perché quelle sono le economie che orientano la politica economica esterna ed interna della zona euro, il tutto con la benedizione di gran parte della nostra stessa classe intellettuale e di parte della nostra classe politica, quella che per la precisione fa il tifo per le ONG e va a braccetto con Soros. Quando in sede di dibattito europeo si parla a volte di Europa a doppia velocità, bisognerebbe tenere presente che la doppia velocità c'è già da tempo ed è dovuta dal fatto che le regole europee penalizzano noi e avvantaggiano gli altri. Non è un caso che da quando questa maggioranza parlamentare si è formata, il lavoro della quattordicesima Commissione è stato anche e soprattutto fare il possibile per limitare i danni che la ricezione delle regole europee porta inevitabilmente con sé. E se questo vuol dire incappare in un'infrazione, se è per salvaguardare la nostra nazione, ben venga a incappare in queste infrazioni. Invece di invocare i cordoni sanitari, certi partiti europei dovrebbero chiedersi perché ad ogni votazione su tematiche comunitarie gli italiani rispondono di non volere più quel tipo di Europa, cioè un'istituzione che lavora palesemente per mettere in ginocchio il nostro Paese. Vede, Presidente, all'indomani delle elezioni europee la classe dirigente che fino ad oggi ha governato l'Unione europea e che ci ha portato sull'orlo del baratro, poteva scegliere tra arrocarsi ulteriormente sulle sue posizioni superate dal tempo e dal desiderio di cambiamento dei popoli oppure venire a patti con la realtà. Purtroppo la prima opzione è stata preferita e adesso ci troviamo con una Presidente della Commissione europea che mette persino in dubbio il diritto del Governo italiano ad esprimere una figura nel novero dei commissari ed un Presidente dell'Europarlamento appartenente al PD, cioè a un partito che ha perso clamorosamente le elezioni dimezzando i loro voti. Su quest'ultimo punto forse si stupiscono i nostri partner europei, ma noi italiani non ci stupiamo. Sappiamo bene, cari colleghi del PD, che non vi fate scrupoli a governare senza averne il diritto. Non ci rivolga ai colleghi, senatrice, e vi pregherei di abbassare i toni. Collega, si rivolga direttamente alla Presidente. Io mi rivolgo volentieri, Presidente, se mi viene lasciato il diritto di poter esprimere la mia... altrimenti prenda provvedimento e faccia uscire dall'aula che disturba. Faraone, sendo dei boati provenire da una piramide sotterranea, stia tranquillo per favore, non faccia quei boati. Grazie. Prego, senatrice, concluda. Presidente, se arrivassi da una piramide sarebbe prezioso, purtroppo non è neanche così. Sappiamo bene che il PD non si fa scrupoli a governare senza averne diritto e sappiamo come sia foriero di consiglio... Senatore Faraone la richiamo all'ordine. È capace di suggerire... Sta svolgendo un intervento, le ho già detto, di rivolgersi non ai colleghi, ma può esprimere senza offendere nessuno come vuole. Prego. Mentre non si può fare dei... come li possiamo chiamare? Dei rumori cavernicoli come quelli che ho sentito. Presidente, io non ho offeso nessuno. Ho semplicemente... Prosegua, 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 prosegua. Non si rivolga ai colleghi. Io mi sono rivolta a lei, infatti. E sappiamo come sia foriero di consigli e capaci di suggerire soluzioni e problemi quando è all'opposizione. Peccato che il più delle volte i problemi arrivano proprio dalle loro scelte politiche del passato. La sola nota positiva di questa nostra battaglia contro l'Europa, dei banchieri, è che gli italiani hanno ben chiaro chi ha tradito il nostro Paese per un piatto di lenticchie e chi invece la sta difendendo con le unghie e con i denti. Concludendo, ritengo doveroso sottolineare che se questa legge di delegazione europea è meno dannosa di quelle votate in passato, è grazie alla vigilanza della Lega che è stata votata dagli italiani per fare gli interessi del Paese e nonostante tutto, nonostante gli attacchi strumentali che spesso e volentieri subiamo, continuiamo a farlo perché al di là del teatro della politica c'è un popolo che non crede più in questa Europa matrigna, eppure continua a credere e a sperare che un'altra Europa sia possibile. L'Europa dei popoli per cui noi lavoriamo. Oggi gli euroscettici sono i soli europeisti, tutti gli altri sono i servi sciocchi delle potenze straniere. Ripeto, i cittadini, gli italiani lo sanno bene. Grazie, grazie per l'esempio di democrazia che dimostrate sistematicamente. La ringrazio anche.